Allora, arriva un pareggio, comunque anche un po' a ridare speranza a questo Lernettuno che comunque oggi ha veramente sfoderato una buona prova, forse qualche errore di troppo poi alla fine è arrivato il gol del pareggio, un pareggio che può essere giusto sotto molti aspetti può essere il contrario sotto tanti altri Sì, stiamo lavorando bene durante la settimana, stiamo provando molti schemi purtroppo oggi abbiamo ripreso la partita bene, dopo qualche errore, purtroppo sono venuti i gol loro qualche deviazione, purtroppo ci sta e niente, siamo riusciti a recuperare la partita poi con il portiere di movimento che stiamo provando in settimana, stiamo cercando di fare sempre meglio Ecco, per la seconda volta in stagione si pareggia, in casa era già successo nel girone di andata dal 4-4 con l'Atletico Rocca Massi, ma comunque questa è una partita completamente diversa e due squadre che cercavano questa vittoria che avrebbero voluto anche se comunque non è nulla di compromesso perché ormai dovrebbero essere quasi fatti i giochi per quanto riguarda il piazzamento della Coppa Provincia Latina Sì, anche se sono quasi fatti i giochi per playoff, diciamo che oggi ci tenevamo tutti e due a vincere si è visto infatti sul campo comunque ci siamo dati battaglia e cerchiamo sempre di fare bene e andiamo avanti così quest'anno purtroppo ci sono state alcune pecche, partite che abbiamo forse mollato troppo e oggi anche se c'era molto il sole e faccia molto caldo siamo riusciti comunque a mantenere un buon ritmo e recuperando poi la partita che si era messa male all'inizio Ecco, chiudiamo con l'ultima battuta si avvicina quindi questo finale di stagione, quattro turni dove praticamente vi troverete comunque ad affrontare due delle squadre che lottano per la vittoria finale di questo campionato Fortituto Pomezia e United Aprilia Sì, sono due grandi squadre cercheremo ovviamente di dare il meglio e speriamo insomma bene e di dare il massimo ovviamente anche in quelle partite anche se comunque sono partite difficili e speriamo bene insomma Allora, Simone Billardello un pareggio forse che vi va stretto a voi o comunque vi soddisfa questo adesso a caldo può naturalmente far sorcere praticamente la bocca a qualunque giocatore No vabbè, il pareggio è un risultato migliore rispetto alle altre trasferte anche se relativamente l'incontro l'abbiamo fatto in gran lunga il primo tempo noi ci siamo rilassati 10 minuti al secondo tempo lì un po' di inesperienza un po' più di piglio forse questa partita oggi la portavamo a casa Allora, se dovessimo analizzare un po' quello che è stata questa partita tanti errori si sono visti tanto da una parte tanto dall'altra poteva vincere una, poteva vincere l'altra di squadra alla fine arriva un pareggio però non va a questo punto gettato via anche perché questo Flora quest'anno tra le altre cose è la squadra che non aveva mai pareggiato fino ad ora Sì, sì, infatti il pareggio è un risultato comunque positivo specialmente in trasferta perché noi stanno pecchiamo in trasferta frutto comunque di una squadra molto giovane e ci sta come il primo anno comunque il primo anno giochiamo tutti insieme quindi il pareggio va visto come un qualcosa di positivo poi certo la fame di vincere c'è sempre quindi non siamo soddisfatti assolutamente Ecco, Bilardello sei un po' il veterano di questo sport a livello provinciale ha anche avuto la possibilità di giocare in campionati regionali quello di Serie C2 ti trovi comunque a gestire insieme al tuo amico di gran lunga Tata Simone Stritini anche se lui ha preso la volontà proprio di gestire proprio all'esterno del campo tu hai voluto continuare invece a giocare tanti giovani qual è la tua inimpressione quest'anno? non solo al Flora ma anche in questo girone quest'anno il girone rispetto agli anni passati è gran lunga superiore fatto stare due anni davanti fanno il campionato a sé ma hanno giocatori di categoria superiori assolutamente sia United che anche Pomezia ci sono comunque giovani che si stanno mettendo in luce? sì sì ci sono molti qualcuno anche che gioca insieme a me quindi c'è il movimento comunque continua a crescere l'importante è quello perché ecco sono anni che sono in questo movimento e l'importante è che i giovani escono fuori e che vengono aiutati anche da noi veterani quando ancora continuiamo a calciare questo pallone allora presidente Massimo Proietti un pareggio che non si vedeva da tanto tempo quest'anno soltanto una volta era capitato proprio qui in casa contro quel Roccamase identico il risultato quest'oggi contro il Flora 92 quarto pari sì è vero è vero in casa soffriamo quest'anno soffriamo un pochettino oggi comunque è una bella partita secondo me il pareggio è il risultato più giusto per i valori che sono visti in campo con noi magari qualche disattenzione in meno forse sarebbe meglio perché a volte ci porta come dire a essere penalizzati diciamo ecco non riuscire poi a vincere fuori casa forse soffriamo diciamo il fattore casalingo diciamo ecco Massimo tanti errori tanti errori quest'oggi se ne sono visti veramente tanti da parte dell'NN1 che ha dovuto sempre rincorrere in quattro circostanze poi proprio forse nell'ultima palla l'ultima possibilità quando hai visto confiare la rete a quel punto hai veramente esultato alla tua maniera beh sì effettivamente sì perché perdere in quella maniera proprio da una disattenzione nostra fa male recuperare la Proion Extremis insomma ho esploso diciamo la mia gioia perché credo che sia giusto che anche questi ragazzi i sacrifici che fanno e la società compresa riescano a portare almeno un risultato diciamo positivo cosa che io ho detto ai ragazzi prima della partita visto che avevamo iniziato diciamo dopo una serie di vittorie abbiamo cominciato due sconfitte e le ho esortate quantomeno a impegnarsi fino alla fine diciamo per cercare a portare un risultato positivo allora ci avviciniamo verso il termine di questa stagione ci sarà ancora molto da giocare quattro partite prima della fine del campionato poi ci sarà questa Coppa Provincia di Latina grande possibilità di poter ambire poi a quelle speranze che potrebbero portare al campionato regionale ma dopo tanti anni sappiamo bene Gino che comunque è in netta ripresa ci fa molto piacere del suo stato di salute si vedono si cominciano a vedere ancora giovani che potrebbero dare in immediato futuro lo speriamo tutti un cambio proprio generazionale sì se parliamo in termini diciamo di ragazzi sì per quanto riguarda il mister Gino sicuramente questo problema che lui ha avuto di salute non ci ha aiutato perché abbiamo dovuto poi in questo momento col mister Massimo Zaino con l'Under 21 prendere lui in mano diciamo la situazione della prima squadra e qualche cambiamento c'è stato anche sugli allenamenti o su quant'altro però ecco il mister Gino comunque rassicuro tutti sta bene mi viene a trovare lui dovrà stare ancora per un po' di tempo lontano dei campi però speriamo di recuperarlo il prima possibile e staremo a vedere e quando riguarda il resto della stagione sì è vero cerchiamo di entrare in questa Coppa Provincia della Dina che è comunque un qualcosa che ci porrà permettere questo salto di categoria speriamo bene speriamo di continuare a fare comunque punti in queste ultime quattro partite adesso andiamo ad affrontare il Pomezza che non sarà sicuramente una partita facile speriamo bene insomma noi ce la stiamo mettendo tutta bene grazie quindi a Massimo Proietti padrona della formazione di Nettuno Bianco Verde Daniele Porcelli vi saluta rimandandovi ai prossimi appuntamenti con Mondo Futsal dai campi della provincia di Latina